Nel nostro lavoro ci mettiamo cura e passione, per questo garantiamo la più alta qualità del cibo che arriva sulla tua tavola. Le carni by Marco Migani, Chianina IGP, Mora Romagnola, salumi di nostra produzione provenienti da allevamenti certificati dell'entroterra, baccalà secco e bagnato, formaggi locali, passione e cordialità tutti i giorni da Le carni by Marco Migani. Vieni a scoprire le nostre specialità al mercato coperto di Rimini. Grazie.